Musica Parliamo di un altro alimento che è nelle nostre tavole e fa tanto bene ai nostri bambini. Le carote. Se tagliate male, cioè così, vedete? Questo è un tappo. Via, non va bene. Prendiamo la nostra carota e come abbiamo fatto con il booster, la tagliamo prima a metà, stando sempre attenti. È più pericoloso da tagliare del booster, è più facile che vi arrivate nelle mani. Poi lo tagliamo in quattro. Vedete, sto usando un coltello che potrebbe usare la mamma di tutti i giorni. E poi, sempre con molta calma, pezzettini, pezzettini, pezzettini. Non mi stancherò mai di dirlo. Fate tutto a pezzi il più piccolo possibile, in modo tale che il vostro bambino si nutra in totale sicurezza. Mi raccomando, le carote le tagliamo così. Musica 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 Musica